ragazzi io ora mi dico che cosa ne penso e poi farò il discorso quello che sto per dire ok quindi è una mia opinione a riguardo sulla juventus che però anima a giocare via va bene e quindi la juventus avrà queste partite qui ovvero tra il barcelona e poi contro i cesi che queste sono le tre avversarie delle quattro amiche modi tra i due big tra le due big d'europa quindi non c'è nessuna squadra ma che in occasione di questo evento che sta creando ovvero quindi andrà a vedere questa supernetta solo nostra ok quindi mi vale la pena che comunque andrà a un passo avanti verso alla supernet ok quindi tra di questi ci sono juventus e borcelona che si giocano nella saudi champions quindi questo si chiama per affrontare a cristiano ornando quando lo abbiamo preso e in più c'è quello delle news di cazio mercato quindi fate attenzione e iscrivetevi al canale e commenti per le prime partite nelle amichevoli quindi ho solo questo da dire ho solo questo da dire e basta quindi meglio così e avanza pure sergi e minimi un comici samici ok all'inventus così come 5 da Torino e nei due tipo avicario per i si scramini unici unimono mani mi raccomando e fino alla fine grazie grazie